Siamo qua con Pumenti del Fiumicino, avete perso 2-1 contro il Savio, qualche rammarico? Sì, una partita molto equilibrata è stata, devo dire che il primo tempo sarà una partita molto combattuta peccato per l'ultimo gol che non ci voleva, forse Lavinia lì poteva fare un po' di più un fallo che al primo impatto non sembrava un po' ingenuo, un po' pericoloso dalla posizione ma purtroppo abbiamo preso il gol Come avete preparato questa partita? La partita l'abbiamo preparata con il mister, ci ha preparato molto sul pressing, infatti oggi abbiamo prestato molto bene e forse dovremmo lavorare un po' di più nella parte difensiva con le marcature Cosa vi è mancato? Ci è mancata un po' di concretezza, un po' di finalizzazione e sempre come sto dicendo prima la parte difensiva si può fare sempre meglio Potete puntare alla salvezza? Sì, per me sì Avete tutti i mezzi? Tutti i mezzi e tutte le cose che abbiamo bisogno Io allora ragazzi vi faccio un grande in bocca al lupo e vi faccio complimenti perché avete giocato benissimo contro una squadra prima in classifica che sulla carta deve essere molto più forte Sì, grazie Ciao per una buona giornata